BELLA A TUTTI FOLI E BENTORATI SU DARK FOLI CHANNEL Quindi adesso iniziamo questa partita siamo sulla mappa del vulcano una mappa abbastanza sfigata perchè dato che c'è il vulcano qua sopra i lucky block spawnano un pochino a caso ogni volta il contenuto dei lucky mi finisce sempre nella lava e io ogni partita la perdo malamente Quindi ragazzi cerchiamo di aprire questo lucky block che ovviamente il suo contenuto non è finito giù 7 mele d'oro ci dovrebbe essere esatto là un altro lucky block cerchiamo di non finire nella lava io le odio queste mappe perchè devono metterci la lava Dove c'è la cesta con la tnt no 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 è la cesta che odio di più in questo gioco perchè ha un raggio di azione troppo ampio e ogni volta mi fa il culo e io perdo la partita in meno di 2 secondi Comunque per fortuna non siamo morti adesso raccogliamo questo albero quest'albero si e andiamo a prendere quella che il block c'è là sotto perchè ci serve almeno un po' di armatura oppure qualche ender per ti parte a centro Quindi allora non abbiamo trovato neanche un piccone oppure c'era e non l'ho preso però non ho nessuna intenzione di tornare giù quindi caviamocelo così con i nostri pugni Ultimo pezzo esatto e con questi pezzi di legno dovremmo riuscire ad arrivare là sotto Allora quell'isola non so se sia disabitato oppure vive qualcuno però noi freghiamoci ne dobbiamo andare a prendere questo lucky block Anche perchè siamo rimasti soltanto 3 eravamo 6 e siamo 3 in un minuto di partita va bene Ah non sei il fabbro no mi è finito la hold di sopra e per fortuna non togli tanta vita Lì c'è un altro lucky block ovviamente se quello resto mi chiede team cioè non possiamo fare un team da 2 e siamo in 3 Cioè sarebbe una cosa abbastanza sleale contro il nostro nemico quindi io dico no al team qui abbiamo trovato l'arco si ragazzi La cosa che amo di più è dato che siamo rimasti in così pochi dovrei riuscire ad arrivare in questa zona qua davanti dove c'è un altro lucky block Ma ragazzi non possiamo farcela perchè non ce la facciamo quindi riprendiamoci qua questi picconi Ci serve quello con efficienza ok così possiamo scavare più velocemente dobbiamo farci immediatamente dei blocchi Per andare nell'isola di quello che c'è qua davanti ovviamente abbiamo aspettato abbiamo 16 di terra che forse mi ha raccolto all'esplosione Quindi freghiamocene di raccogliere i blocchi e andiamo immediatamente Oh mio dio stavo per finire giù Perchè ovviamente le cose fatte di slab non funzionano con lo shift Dark folle sono un tuo fan ragazzi se stai vedendo questo video capirai perchè ti sto per ammazzare Perchè di sicuro sei tu Ah no non sei tu E' un altro questo Boh ragazzi io direi di buttargli la lava addosso Sì deve morire con la lava No però c'è l'acqua c'è l'acqua devo chiudere l'acqua Ok ci devi morire Togliamo qua la scala che blocca la lava Ok Eh buon viaggio signor dark power No si è buttato l'acqua lo stronzo Ok non è morto Oh si ah no è morto ok Ora siamo 1v1 Quindi Quindi devi morire Dark se pro si lo so che sono pro Ma meno uno che mi supporta Non come abitano ogni volta che mi dice Ma sei scarso Vabbò non so se a lui decide di ammazzarsi da solo o devo ammazzare io Cioè non lo so Dove sei non ti trovo Mi sui Come ti suici No ragazzi Vincere le partite così mi da fastidio Però se lo fai cioè sei gentile Ti ringrazierò in questo video Ok Vediamo se veramente lo fa oppure mi spunta dietro con l'ender per lo mi butta giù Allora prendiamo sto lucky block Sperando che non ci sia il kamikaze No c'è l'arco con Con niente Con quest'arco sparerai 3 frecce contemporaneamente Usando risol What? Ah ho vinto la partita quindi grazie Resubin per questa vittoria Vabbè ragazzi la partita di prima è stata un pochino lezza Però l'ho vinta lo stesso Volevo andare a provare anche l'arco che spara 3 frecce contemporaneamente Che dovrebbe essere lo stesso arco quello che danno nei Nei mineplex quando compri il kit dell'arciere Però nei survival games Sì nei survival games Se nei costi dovrebbe essere abbastanza figa negli skywars Quindi speriamo anche di trovarla in questo In questa partita Allora qui abbiamo trovato la palla del blaze Qua c'era il coso del fabbro che mi voleva schiacciare Apriamo innanzitutto la chest perché si esplode qualcosa Qui siamo assolutamente morti Ok abbiamo trovato l'armatura d'oro Prendiamo questo lucky block con il baston chino che è finito giù Perfetto E quindi non abbiamo assolutamente un tubo Adesso ragazzi non so che cosa possiamo fare in questa partita Di sicuro o la perdiamo Oppure ci sarà qualcuno di lezzo che viene da noi e ci regalerà qualcosa Non lo so Comunque usiamo il piccone con efficienza che dovrebbe essere quello Perché è più lento quello d'oro rispetto a quello di ferro anche se è efficienza 2 Vabbò Non facciamoci domande Già c'è qualcosa C'è qualcuno che vuol far saltare qualcosa Allora noi dobbiamo raccogliere tutta questa lana Piccone con efficienza 2 Ci serve per raccogliere tutta questa lana qui in giro Lucky war Sì va bene Il problema ragazzi della mongolfiera È che se vado a rompere qualsiasi blocco vado a finire giù Allora facciamo così Facciamo così Dobbiamo prendere all'incirca 20 blocchi di lana Lì accanto c'è uno Quello non mi convince Dov'è finito? Emma Sper È stato ucciso da Piscia Non so come però Non facciamoci domande Allora lì C'è quello che è andato in quel punto Non so se è la palla di Blaze Missata alla grande Vabbò L'ho missata davvero alla grande Quindi dobbiamo andare per forza in quel lucky block Cerchiamo di racimolare qualcosa Darkfalle vuoi fare team Non ho tempo di scrivere in chat Perché questa partita è troppo sfigata Dobbiamo stare in corsa E prendiamo sto lucky block Deve essere per forza fortuna No ragazzi Ho perso la partita Ho perso la partita Non possono mettere certi lucky block in un'isola così Non possono Ok ragazzi Terza partita Quella di prima Non ve la tagli apposta Tanto per farvi vedere quanto sono sfigato Perché è una cosa assurda Cioè non posso beccare una cesta del genere Ho trovato gravità zero Sì Una cesta del genere in un'isola così piccola Qui c'è il kamikaze Che ovviamente mi farà saltare tutta la parte sopra Ragazzi Ma perché? Perché? Non devono mettere questi lucky block Soprattutto in isole del genere Sono troppo piccole Speriamo almeno qui di trovare qualcosa Gravità zero Gravità zero Ancora Cioè partita uguale a quella di prima L'unica cosa che posso fare è Un ponte Ovviamente qui c'è la slab Posso morirci facilmente giù E facciamo un ponte magico per andare lì Ok ponte 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 Speriamo che nessuno mi miri Sento un sacco di esplosioni Abbiamo all'incirca Due blocchi Un blocco Zero blocchi Quindi prendiamo la ricorsa Andiamo qui Se trovo la cesta ancora con la TNT No Ho trovato un'armatura full diamante Però ragazzi Full diamante Mi sono finiti i pantaloni Mi potono finire qualcos'altro Giù no I pantaloni Vabbè Che era l'unica cosa che mi mancava Troppe esplosioni ragazzi Qua c'è gente davvero agguerrita Usiamo il blocco d'acqua Per salire sopra Perché non si è trasformato in ghiaccio? Vabbò Non facciamoci domande Abbiamo trovato anche il piccone d'oro Che non possiamo usare perché Ovviamente non raccoglie What the fuck Mi sto qua all'arco con il full cristo Arco con il full cristo Cado giù ragazzi Cado giù Un'altra frecce e sono morto Che culo No mi sto qua mi sta smantellando l'isola Eh non volevo distrutturare la mia isola Mi andava bene così Come faccio ragazzi? Sono fregato Questa mappa è ufficialmente la La mappa che odio di più Cioè ogni volta che la faccio non riesco Quasi mai a vincerla Oddio 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 Abbiamo trovato il carbone che Non so che cavolo mi serva Niente Qui c'è quello con l'arco che mi sta mirando malissimo Altre due frecce e muoio Quindi facciamoci sto buco Ok Siamo qui non ci possono colpire Aspettiamo un pochino ragazzi Che i nemici si scanino tra di loro Ok quello là si sta stabilizzando Qui c'è il signore Enrico Pratico Ehm vabbò raccogliamo qui la lana Ci serve la lana per andare al centro Per forza E dobbiamo stare attenti anche Che quello al centro che è all'arco Che sta mirando mezza mappa Non ci faccia il culo Dobbiamo stare anche attenti Che quello che accanto a noi Enrico Gamer non ci uccida Quindi siamo Cioè dobbiamo stare attenti a qualsiasi cosa Cioè perché mettono Io l'audio sta mappa Basta la prossima volta che la capito Esco sicuro Che la capito Cioè si può dire che la capito Che la ribecco ragazzi Che la ribecco Allora Questo ufficialmente mi ha rotto le scatole Siamo rimasti in tre giocatori Vieni da me Sì così almeno facciamo un pochino di lotta Io sono con un piccone Ovviamente riuscirò a sconfiggerti Sì facciamo la torre Vieni forza vieni Vieni da me signor Dig bug Ok What the fuck Mi ha buttato giù Ehm Come cavolo ci sono molto Vabbò Ragazzi Non facciamoci domande Cioè mi ha Aveva ancora la spada Con quell'ho back Fu Cristo E mi ha massacrato Comunque ragazzi Scusate se vi porto Soltanto tre episodi Ma questo server Si sta riempendo di lezzini Oppure sono sempre io più sfigato Quindi vi ricordo come sempre Lasciate un like In commento E se ancora lo avete fatto Iscrivetevi E ci becchiamo domani Con due nuovi video Ciao ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti